La base imprenditoriale giovanile Emiliano-Romagnola continua a contrarsi più rapidamente rispetto a quanto avviene a livello nazionale. È quanto emerge dai dati del registro delle imprese delle Camere di Commercio elaborato da Union Camere Emilia-Romagna. A marzo le imprese attive giovanili si sono ridotte a 28.806, in un anno sono diminuite di 1.420 unità, pari ad una riduzione del 4,7%, con una sensibile accelerazione nella tendenza negativa, la più rapida dalla settembre 2014. Da tempo la tendenza regionale risulta più pesante di quella nazionale. La riduzione è da attribuire principalmente alla flessione molto ampia delle ditte individuali, meno 5,3%, ma spicca la contrazione delle società di persone, meno 9,7%. I settori in cui i giovani imprenditori fanno più fatica? Sicuramente quello delle costruzioni, che vede un crollo delle aziende del 12,5%. A questo si aggiungono la rapida caduta dell'industria, meno 6,2%, e l'ampia flessione dell'insieme del settore dei servizi, più marcata nel commercio. Risultano in crescita solo le imprese giovanili attive nell'agricoltura, silvicoltura e pesca, più 58 imprese, più 2,8%, effetto del rinnovo generazionale e dello sviluppo di forme di autoimpiego.